Servirà un'altra grande impresa. Il Lecco va a Venezia, si gioca a sabato alle 14, conscio di non avere dalla sua i favori dei pronostici. I Lagunari sono tra i favoriti per la promozione e, malgrado due sconfitte consecutive, sono ancora secondi in classifica. I Buceresti devono riprendersi dalla battosta casalinga contro la Ternana, che li ha fatti sprofondare al penultimo posto. Ma proprio nei momenti più difficili, i ragazzi di Bonazzoli e Malgrati hanno dimostrato di avere risorse insperate. Siamo arrabbiati per come è andata la partita con la Ternana. Affrontiamo una squadra che viene anche essa da due sconfitte consecutive. Una squadra con valori, qualche assenza, però ce la andiamo a giocare. Senza nessun timore, senza nessun problema, ce la andiamo a giocare. Ripartendo dall'ottima ora di gioco che abbiamo fatto con la Ternana, dobbiamo continuare su quel gioco, su quella mentalità, su quella voglia di cercare di offendere. Sappiamo che l'avversario è un avversario di livello, però siamo pronti. L'onda è là, senza paura, senza timore, con le nostre convinzioni. Imposta probabilmente il ritorno di Malgrati, che ha superato i problemi fisici. Torna tra i convocati anche Guglielmotti. In dubbio di Stefano, ha avuto l'influenza in settimana. La squadra si è serenata bene in settimana per fare una grande partita con il Venezia. Voglia di riscatto, voglia di rivalsa. Se ho visto questo in settimana, hanno lavorato ancora di più i ragazzi, per essere sempre sul pezzo. Quindi non vedo strascichi negativi per quanto riguarda la partita con la Ternana. Bisogna superarli in momenti negativi e come gruppo l'hanno fatto benissimo.